L'ospite di SCP-027, attualmente il soggetto 027-02, deve essere tenuto in una cella di contenimento di 5 metri per 5 metri, con un pavimento a grate sopraelevato connesso ad una forte sistema d'aspirazione. Tutte le creature rimosse dalla cella di contenimento del soggetto devono essere incenerite, eccetto per una piccola porzione che deve essere prelevata per analisi e necroscopia. La cella deve essere pulita e controllata per danni strutturali ogni giorno. Il soggetto 027-02 deve essere monitorato da almeno due addetti del personale per tutto il tempo. Qualunque comportamento o segno vitale anomalo da parte del soggetto o la comparsa di qualsivoglia specie insolita nelle vicinanze del soggetto deve essere immediatamente segnalato al personale di livello 4. Il personale di sicurezza assegnato ad SCP-027 deve essere vaccinato contro tutti i patogeni animali conosciuti e deve essere armato con pistole tranquillanti e da ordini permanenti di sottomettere il soggetto in caso di necessità. Fino a quando SCP-027 non viene compreso a meglio, nessun addetto del personale con autorizzazione di livello 4 superiore dovrebbe avvicinarsi a 200 metri dal soggetto. SCP-027 sembra essere un fenomeno di origine ignota e sembra essere legato ad un soggetto umano, attualmente 027-02, per volta. Come ospite dell'SCP-027, il soggetto 027-02 è costantemente circondato da parassiti e brulicanti che sono attratti nel posto in cui si trova. Il soggetto non sembra in grado di affermare il controllo su queste creature in alcun modo ed è infatti bersaglio di attacchi occasionali da parte di esemplari selvatici. Ovunque il soggetto vada, uno sciame iniziale di insetti volanti come zanzare e mosche comincia a formare una nuvola intorno a lui, in genere nel giro dei due o tre minuti. Poco dopo inizieranno ad apparire degli animali striscianti, tra cui pidocchi, scarapaggi, vermi, ragni, topi e ratti. Più a lungo il soggetto rimane in un posto, più parassiti si riuniranno lì. Quando il soggetto lascia un posto, una parte di queste creature lo segue, ma la maggior parte si disperde. SCP-027 è stato reso noto per il fatto che si è trasferito tra diversi ospiti, una volta, dopo la morte del primo ospite conosciuto, il soggetto 027-01. Dato che SCP-027 potrebbe probabilmente ripetere questo procedimento dopo la morte del soggetto 027-02, tutto il personale di alto valore deve essere tenuto lontano dall'ospite corrente fino a quando non si comprende altro circa SCP-027. SCP-027 potrebbe essere stato probabilmente trasferito tra ospiti un numero imprecisato di volte prima di essere contenuto. La ricerca dei potenziali ospiti precedenti è stata avviata, con evidenze preliminari che suggeriscono che SCP-027 potrebbe esistere da almeno... anni. Non è ancora noto come SCP-027 scelga o attraga gli animali, e nemmeno cosa sia esattamente. L'ospite precedente non ha mai affermato di avere alcun tipo di comunicazione con un'entità cosciente separata. L'analisi dell'ospite corrente è stata incloncludente. Viene scoperto il soggetto 027-01 in un magazzino abbandonato fuori da... completamente invaso da topi, scarafaggi ed altri parassiti, e viene contenuto e cantalogato come SCP-027. Il soggetto è un maschio caucasico sulla quarantina, di media statura ma magro, sporco e coperto di morsi e graffi. Il soggetto ha inoltre mostrato anche sintomi di degrado mentale, la prova evidente di un uso massiccio di alcol e droghe illecite, e segni di una prolungata privazione del sonno. Il soggetto spira. L'autopsia dimostra che più del 70% del corpo del soggetto è... una colonia di rati inidificati nell'addome per almeno... generazioni. Tra le 140 e le 150 l'ore dopo la morte del soggetto, il responsabile della sicurezza, K... afferma di essersi svegliato per problemi respiratori a causa di una grande mosca che è strisciata su per il suo naso. Di seguito, si è scoperto che aveva già giusto delle uova. Le osservazioni successive hanno portato alla classificazione del responsabile K... come il soggetto 027-02. L'ospite originale viene riclassificato come 027-01 ed SCP-027 viene ridefinito. Il seguente interrogatorio è stato condotto il... ottobre del 2000... subito dopo aver identificato il soggetto 027-02 e dopo averlo trasferito nella cella di contenimento che ha ospitato il soggetto 027-01. Buongiorno, responsabile... Come ti senti? Spaventato, confuso. Per lo più spaventato, però. Comprensibile. E il prurito? Sento come se avessi bisogno di farmi una doccia per tutto il dannato tempo. Ah, e che ne dici di... dentro? Senti qualcosa di diverso dentro di te come una... presenza? No, non credo di sentirla. Non ho mai notato una cosa del genere. Non hai sentito nulla di differente da quando l'ospite originale è morto? Oltre a prurito? No, affatto. E qualcosa circa qualche sorta di voce o compulsioni? No, non ho sentito nulla a parte gli insetti che mi circolano addosso. Mi sento sporco e spaventato e... Dottore, per quanto riguarda la mia famiglia deve togliermi questa cosa di dosso così che io possa vederli di nuovo. Ma... ma certo. Farebbe tutto il possibile per rimuovere 027 da te. Dio, io... mi dispiace. Poco dopo che questo interrogatorio ha avuto luogo il dottor Jameson e altri diversi membri del team di ricerca per SCP-027 sono stati trasferiti ad altri progetti.